Marina Stoppani è segretario regionale ANED Abruzzo Molise, intanto innanzitutto facciamo subito precisione che cos'è ANED e di che cosa si occupa. ANED è un'associazione composta da noi, dai dializzati e dai trapiantati, per cui io stessa sono una trapiantata, ho fatto 5 anni di dialisi, è un'associazione Olus nazionale, ci occupiamo proprio di questo settore. Beh, considera che noi andiamo i dializzati, vanno in ospedale 3 volte alla settimana, si trattengono lì per la terapia dialitica almeno 4 ore, 4 ore e mezza, per cui sono persone completamente e totalmente esposte. In più non abbiamo i dati, noi per sentito dire qualcuno ci chiama, si è contagiato questo, si è contagiato quell'altro, però in realtà noi non abbiamo dati certi e questo è anche una cosa che ci preoccupa e ci allarma parecchio. Ecco, la guarigione sarebbe veramente molto difficile, perché un dializzato quanto un trapiantato, assumendo alcuni farmaci e soprattutto l'antirigetto per i trapiantati, abbiamo il sistema immunitario quasi completamente azzerato, per cui lei capisce che è molto, molto, ma molto preoccupante ed è molto facile contagiarsi. Hanno tenuto botta i reparti di dialisi degli ospedali di tutto Abruzzo e anche del Molise? Sì, sì, hanno tenuto botta, ma insomma non sono stati aiutati. Diciamo che hanno tenuto per la grande volontà degli operatori e anche per i trapiantati che si sono completamente affidati, perché non siamo stati aiutati dallo Stato, ci sono stati momenti in cui a pasto hanno chiamato che usavano i calzari comprati dai cinesi per farsi le mascherine, per cui è veramente una situazione allarmante e preoccupante. Il grido di aiuto dei dializzati lo ha raccolto attualmente solamente l'ANED, perché ci sta mandando purtroppo poche che siano 2000 mascherine per poterle distribuire ai pazienti che comunque li devono comprare. Non tutti sono in grado di andare sia a cercare la mascherina, insomma, e comunque di spendere dei soldi, anche perché si sa che sono aumentate tantissimo. In realtà noi abbiamo anche purtroppo accurato che in Montesilvano si è aperta un'altra dialisi privata e questa dialisi privata non garantisce assolutamente nessun tipo di tutela per i pazienti, per cui siamo molto molto preoccupati, anche perché hanno chiuso una dialisi privata a Francavilla per poi aprirne una a Montesilvano. I pazienti sono stati tutti collocati nel pubblico, quindi vuol dire che i posti ci sono, non c'è esigenza. Per cui la dichiarazione della dottoressa Veri, dove diceva appunto che i posti sarebbero stati occupati solamente in caso di mancanza letti, ma non è il nostro caso. Nel nostro settore purtroppo i letti ci sono, anzi fortunatamente i letti ci sono perché i dializzati nell'ultimo periodo sono anche in calo, perché adesso ci sono anche le dialisi domiciliari, per cui non c'è questa carenza posti letto o posti rene. Credo che sia un dispendio di soldi pubblici inutile. Grazie. Grazie.